Si possono fare anche un pochettino più piccoli Si vede come te la giochi E guarda il concetto della polpetta Secondo me, nel senso che Cioè mia madre quando fa la pasta al forno Le fa micro Invece quando le fa il sugo per fare la carne Le fa un pochettino da canederlo diciamo No, questo me lo sono inventato io L'ha bocciata L'ha bocciata di canederlo Mi sa che c'è un problema sul canederlo C'è un'attesa sospetta della signora che si torna con il risposto Il canederlo Mi dispiace Lo stiamo perdendo 30 cc di pangrattato 30 cc di pangrattato Non era sicura su quelli che stanno facendo da me Questo non era sicuro Ma state differenziando No Questa forse è l'unica senso Però questa è ancora subiudice È vero? Li stiamo mettendo Subiudice Bene tutti e due Ok E' un canederlo in versione beta Funziona? Funziona Ottimo, grande Faccio un ciclo di virtual C'è un'altra ciotola C'è un'altra ciotola Parla proprio legale Chi l'ha fatto? Lui Lui Guarda Subito Momenti Grandi momenti di delazione C'è subito